altro appuntamento dal reparto corse polini dove ritrovo davide per parlare di un altro oggetto meraviglioso davide questa carogna mi ha fatto venire una voglia pazzesca di bici per cui mi sa che mi toccherà prima me le fate provare mi ha promesso simon che dopo tutti i vostri c'è il mondiale sono un sacco di eventi importanti però poi voglio provarle tu mi porterai con la mountain bike mi insegnerai a fare dei passaggi nel limite delle mie capacità molto volentieri assolutamente sì allora cosa c'è dentro in questo capolavoro un sacco di cose nuove qui sì questo è un nuovo progetto portato per la prima volta nel 2023 da polini a ribalta dei clienti cioè batteria da 880 watt ora quindi stiamo parlando di una capacità di un battery pack particolarmente interessante molto richiesto dal mercato negli ultimi periodi quindi come nostro solito costa consuetudine abbiamo cercato di capire quali erano le potenzialità e qual era il prodotto migliore siamo andati a optare a scegliere 880 watt ora che per qualcuno potrebbe sembrare una batteria particolarmente grande grossa pesante ma siamo assolutamente certi che sia perfetta perché oltretutto riscontro abbiamo dal mondo sportivo quindi oggi noi siamo presenti nei campionati UCI e EDR quindi campionato del mondo di enduro elettrico dove i ragazzi di vari team hanno scelto 880 watt quindi vuol dire che comunque anche a livello sportivo e anche a livello prestazionale non ha nulla da rimpiangere dalle batterie un pochino più piccole anzi teoricamente è ignorante direi più batteria più potenza meglio no invece non è così potenza naturalmente non varia perché la batteria è da considerare tanto quanto un serbatoio quindi è come avere una moto da otto litre e mezzo di serbatoio o un serbatoio da dodici quindi non ci dà più potenza ci dà più autonomia naturale naturalmente a scapito del peso quindi qui abbiamo una batteria che pesa circa due chili in più rispetto alla nostra classica 500 watt ora ma siamo stati particolarmente mi auguro bravi nel dimensionamento nel posizionamento del tutto il battery pack e delle celle e quindi il risultato è buono sono due chili in più naturalmente varia anche la capacità del caricatore che è aumentata quindi abbiamo un caricatore che ha qualche ampere in più per essere pochino più veloce nel tempo di ricarica che comunque è da batteria totalmente scarica circa quattro ore quattro ore e mezza per caricare un 880 watt novità ulteriore sul mondo mountain bike che naturalmente in questa versione abbiamo presentato qui con un micro display totalmente integrato nell'upper cube del telaio vuol dire che andiamo a presentare idealmente le stesse funzioni del nostro display classico in tft a colori quello che sono le nostre funzioni su questo piccolo piccolo display che qui lo vediamo su una mountain bike ma è sicuramente molto interessante anche su road o gravel in un futuro perché no la dimensione piccola quindi si riesce ad adeguare anche a vari tubi e telai di altre di altre tipologie questo interessante display ha prima di tutto naturalmente le presentazioni dei vari livelli come nell'altro display sono sempre cinque presentazione della tipologia di mappatura che il cliente ha optato chilometri orari carica residua questa è la prima pagina se passiamo nella seconda abbiamo la presentazione della carica residua in questo momento è il 45 per cento in una versione un pochino più grande per chi ha problemi magari di visualizzazione o come si fa spesso nella fretta si vuole capire immediatamente quanta batteria sia abbiamo scelto di aumentare il logo e poi qualche dato fitness inteso come i watt espressi in questo momento reale dal ciclista i chilometri orari percorsi e la cadenza vuol dire che un ciclista quando utilizza un sistema polini non deve più abbinare o acquistare o dover installare sulla propria bicicletta device costosi non devo più abbinare prodotti che mi danno la catena la cadenza o la potenza espressa da me per poi andare a vedere cosa in quanto mi sono allenato il sistema se lo presenta indiretta e anche nei vari dati medi vuol dire che io posso capire quanto ho percorso in termini di chilometri quanto è stata la cadenza media quanto sono stati anche la potenza che io ho espresso questi sono tutti i dati che naturalmente il sistema include perché ip3 plus evo già li presenta anche sullo schermo più grande altra cosa interessante dobbiamo approfondire il fatto che dal 2022 i sistemi evo e anche ip3 plus hanno una app dedicata a cui un cliente si può connettere direttamente al proprio sistema e addirittura oltre alle nostre mappature standard che sono la dynamic la touring e la race ha la possibilità di customizzarsene due a piacimento quindi possiamo entrare tramite l'app nel motore direttamente col bluetooth e andare a modificarci i vari parametri questa è una cosa molto interessante che ci dà una serie di vantaggi sia a livello di consumi perché uno può adeguare ai propri alle proprie esigenze sia a livello di prestazione possiamo chiedere al motore anche di avere uno stacco leggermente ritardato quando smettiamo di pedalare in caso di una mountain bike per oltrepassare idealmente un ostacolo dove i piedi e le piedi vele devono rimanere pari o io ho un piccolo inceppo ma il motore mi può dare ancora un minimo di boost di spinta questo lo si può fare tramite l'app questa è l'app originale polini che si può scaricare gratuitamente da apple store o da android naturalmente ci dà la possibilità di connetterci alla nostra bicicletta naturalmente sinceriamoci che il bluetooth dal display sia stato attivato e ci permette di fare diverse operazioni quindi tutto ci presenta dei vari dati che sono addirittura modificabili a seconda delle nostre esigenze quindi possiamo mettere anche per esempio l'ora e utilizzare il telefono fisso al manubrio come un secondo schermo una cosa molto interessante che ci permette quella di andare direttamente all'interno del motore e quindi andare a modificarci quello che sono delle nostre mappe custom 1 o custom 2 adesso il sistema sta caricando nel mio cellulare le mappe del motore e potremo poi andare a modificarci quello che sono i vari parametri qua andiamo a selezionare il tipo di mappa e andiamo a vedere come sono distribuiti sia i vari livelli quindi dal livello 1 livello 0 andremo a vedere che il livello 1 si dà al 30 per cento di assistenza e al 30 per cento di limite ma se io vorresti farmi una mappa custom o un ulteriore parametro particolarmente interessanti oltre a poter decidere quali sono i limiti per ogni livello posso decidere di dire al motore questo stacco vuol dire che questa bicicletta se io seleziono stacco motore al cento per cento quando smetterò di pedalare avrò ancora un extra boost questo è quello che spiegavamo precedentemente che ci permette di oltrepassare eventuali ostacoli piedi completamente pari ho smesso di pedalare la bici si dà ancora un pochino di spinta oppure entro in una curva dove posso avere un minimo di appoggio smetto di pedalare ma una parte della curva ho ancora un po di spinta dal motore tutte queste sono customizzabili dal cliente privato come per esempio vogliamo cambiare la potenza di questo livello andiamo e aumentiamo interamente quello che vogliamo quindi o lo facciamo da display modificando in questo modo le grafici o lo facciamo direttamente dalla sua casella questo è un qualcosa di molto interessante una volta creata naturalmente partendo da una touring una dynamic una race a seconda delle nostre esigenze andremo a sincronizzarla vuol dire che noi dal telefono alla bicicletta stiamo in questo momento passando al motore le informazioni una volta finito la bici è pronta basterà andare a selezionare con le mappe custom 1 o custom 2 secondo di quella che abbiamo fatto e la bici è già pronta non dobbiamo spegnere non dobbiamo rescendere le ha già assimilate e possiamo partire fantastico e questo mi sembra di capire che è un qualcosa che avete sviluppato con coi piloti no li chiamiamo così perché solo secondo me un grande tecnico riesce a farvi capire che c'è un istante in cui c'è bisogno di qualcosa in più sicuramente come spesso capita in polini ci affidiamo tantissimo quello che sono i reparti sportivi che utilizzano i sistemi polini quindi negli anni nelle esperienze fatte con vari atleti che anche a me viene da chiamarli piloti ma io non ho detto caso è perché tanti ex piloti di enduro sono passati e non solo anche nella velocità si sta avvicinando fortunatamente apprezzano quello che è la filosofia dei nostri sistemi quindi abbiamo modo di parlare con persone atleti piloti che ci danno dei feedback questi feedback li riportiamo in azienda e come succede anche nel mondo delle moto li ritroviamo poi sul prodotto di serie acquista al cliente finale perché non dimenticatevi mai che lo sviluppo dei prodotti di polini che poi acquistate per i vostri mezzi viene fatto qua nel reparto corso e banchi prova lo studio tecnico è il segreto di un'azienda che costruisce successi da sempre scusa mi sono una cosa ho notato che sempre c'è l'attenzione all'ergonomia e alla sicurezza esatto anche in questa versione quindi mountain bike che notoriamente hanno l'estremità dei manubri da 22 millimetri quindi tali quali alle manopole abbiamo creato il braccialetto con la pulsantirà due pulsanti quindi possiamo andare a lavorare direttamente con pollice indice senza dover mai perdere eventualmente il manubrio e la presa alla manopola e abbinandoci il comando del telescopico questo caso verticale in modo che colui che vuole utilizzare il sistema telescopico non sia in difficoltà nell'utilizzare sia uno che l'altro quindi abbiamo la possibilità di avere questo tipo di comodità solitamente e lo vedrai quando usciremo in bici ti troverai a averne bisogno nei punti di particolare difficoltà in discesa avere una sella che ti si può abbassare permette naturalmente di avere la bicicletta sempre più inclinata e non avere la sella che ti può dar fastidio e sbilanciare in avanti perché ti arriva diretta diretta nel nella schiena diciamo quindi questo sistema che oramai è voluto ed è utilizzato da tutti il telescopico la sella telescopica ci permette appunto di variare l'altezza e quindi a seconda delle necessità ci permette di poterla regolare con questo bottone questo sistema verticale sicuramente più ottimale se ne può montare anche uno notoriamente posizionato in modo longitudinale ma può risultare un pochino più scomodo questo poi a scelta dell'utente finale assolutamente sì fantastico novità che sono già presenti sul sito giusto davide sono già sul sito polini e bike.com dove trovate tutte le news tutti i partner che a oggi hanno scelto di montare polini p3 dal sito tutto quello che sono aggiornamenti tecnici manuali d'uso in varie lingue quindi li possiamo scaricare in pdf e anche i programmi per aggiornare i sistemi a oggi gratuito per tutti scelta aziendale polini di premiare anche clienti che hanno i sistemi da qualche anno gratuitamente vengono aggiornati basta connettere i sistemi quindi i motori ai propri pc e il programma in automatico oggi va ad aggiornare in un'operazione sola motore display e addirittura il sistema di bluetooth perché il sistema di bluetooth ci dà ogni volta e ogni release qualche cosina nuova stiamo arrivando con una novità ma ne parleremo più avanti benissimo super super figo per cui qualsiasi costruttore scegliate che monta chiaramente questo tipo di motore sappiate che accedendo alla app al sito e potete poi aggiornarvelo modificarlo insomma giocare insieme al reparto tecnico polini grazie davide come sempre un piacere ascoltarti alla prossima e voi ciao 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 ciao